Buongiorno da Molise TV, ben trovati con la nostra rassegna stampa. Oggi sabato 13 aprile andiamo a vedere i titoli dei quotidiani. Per l'Inps è cieco, ipotesi truffa, questo è il quotidiano del Molise, ha problemi con la vista ma non è un invalido totale, percepisce l'indennità. Anziano, originario di Trevento, indagato dalla procura. Si configura un grave reato ai danni dello Stato. Campobasso, la molisana è sempre la regina della tavola, un 2012 strepitoso, lo storico marchio rilevato dalla famiglia Ferro e leader nel campo della produzione alimentare. Comunali sì, di Grande Sud e da Pollonio, ma tutti i big devono candidarsi al Consiglio Esernia verso le elezioni di maggio. Nuovo manager all'Asdreme, doppia spesa per i contribuenti molisani e Iorio accusa il commissario a agito come un dux. Termoli, vertenza Carrefour, sindacati e lavoratori pronti ad azioni di forza. Ieri hanno continuato la loro manifestazione davanti al comune della cittadina adriatica. Ancora cronaca, ladri svuotano e distruggono la farmacia comunale. Si tratta di quella di via Campania, un bottino di 80 mila euro circa. Lo sport del quotidiano, serie di Isernia, Civitanova, trasferta vietata ai tifosi. Dunque dopo il Termoli anche l'Isernia giocherà senza tifosi. Eccellenza, due anticipi. Il Campobasso 1919 ospita la Turris, la Venafro fuori con il calcio Dauna. Le pagine interne. Le imprese alla conquista della Cina. Debutta anche nella nostra regione. La rete Only Italia è presieduta da Irene Pivetti che punta a sfondare nei mercati orientali. Arredamento, moda, gioielleria e agroalimentare. I settori trainanti. Comuni ok alla rete microfinanziaria. L'assessore Scarabeu utilizzeremo al meglio lo strumento Progresso o meno a disposizione dall'Unione Europea. Appuntamento al prossimo 19 aprile a Colletorto. In Molise, in vetrina Venitali, bilancio positivo. Apprezzamenti lusinghieri per le 13 aziende che hanno partecipato alla rassegna di Verona. Asdrem, il nuovo dirigente pronto a insediarsi. Carmini e Ruta sarà lunedì a Campobasso, ma la nomina fa già discutere. Iorio, intanto accusa Basso, ha operato più come un lux che da servitore dello Stato. Intanto, ieri mattina, Francioni ha notificato ad Angelo Percopo il provvedimento del commissario. Consiglieri esclusi dalla Giunta. Frattura pronto ad assegnare le deleghe. Intanto è slittato l'incontro chiarificatore con Vincenzo Cotugno. L'ingegnere Venafrano, solo il presidente può decidere. Parliamo di scuole. I precari bocciano le prime scelte del neopresidente. Basta con le vecchie logiche. Reddito minimo di cittadinanza. Il Partito Democratico deposita la proposta di legge. Primo piano Molise. Stessa apertura dunque con la cronaca del falso invalido. E' cieco, ma legge e va a spasso. Il settantenne invalido per l'Inps percepiva anche l'accompagnamento denunciato per truffa aggravata. A smascherare l'uomo i carabinieri di Trivento che hanno indagato su delega della procura di Campobasso. Ancora Campobasso colpo da 100 mila euro la farmacia di via Calabria. Città presa di mira dai ladri che in 24 ore hanno messo a senno 10 furti. Pettoranello del Molise. Capolinea per 134 lavoratori dell'ITR. Il licenziamento collettivo è stato comunicato ieri con una raccomandata. Il 19 aprile scatterà la mobilità. Sanità. Percopo rimosso. Iori attacca a basso. Ennesimo affronto. L'ex governatore difende l'operato del manager. Iserni al voto. Sassi provoca i big. Bene da Pollonio, ma scendiamo tutti in campo con lui. Termoli. Giallo sulla morte di Sanir. Il giudice dispone l'autopsia. Il 25enne ha perso la vita a mercoledì. Ricordiamolo sulla statale 16. Ancora Termoli. Sorpreso. Mentre ruba gasolio. Camminista Lucano. Finisce in manette. Passiamo allo sport di primo piano. Lega Pro di Palma sfugge all'ultimatum di Capone. Serie 10. Vita nova a Flimitz per i tifosi dell'Isernia. Eccellenza. Il Campobasso 1919. Aspita la Turris. Trasferta pugliese per il Venafro. Per la politica Iorio all'attacco. Dopo la sospensione di Percopo Basso si comporta da Dux. L'ex governatore difende il manager e annuncia faremo valere le prerogative della regione. Ancora Asdrem. Il senatore non vuole equivoci. Quello in ruta non è mio parente. Esuberi. La cattolica convoca le sigle sindacali. Tares la Confcommercio punta a ridurre il peso della stangata. In programma incontri con i sindaci delle due province morisane. Revocato il servizio pulizia sui treni Campobasso-Roma. La Filt CGL chiede un incontro urgente a Nagni. Regionali ore decisive per attaccare il responso. L'avvocato Iacovino conferma depositeremo le istanze nei termini di legge. Queste ancora le incognite per l'undicesima legislatura. Giunta rialza Timolisio in calzafrattura e spunta l'ipotesi del rimpasto. Intanto è stato di nuovo rinviato il vertice chiarificatore. La molisiana punta in alto e intanto è il leader in Italia per la crescita. I numeri più 146% e il 4% di quota di mercato in fabbrica, cucina, solidale e abiti di pasta. Adesso passiamo al quotidiano telematico in forma molise. Arriva Carmine Ruta e il bocconiano taglia gli ospedali. Cattolica a mercoledì saranno comunicati i nomi dei licenziati. Frattura la scuola, officina reale delle pari opportunità per un molise europeo. Iorio senza fondamenti giuridici e inopportuna la sostituzione di Percopo. Arrestato quarantenne per furto di gasolio, ricordiamo, di origine lucana. Microcredito, assessore Scarabeo, un aiuto alla crescita economica del molise. Incentivi imprese e sgravi contributivi del 50% per chi assume donne disoccupate. Sono i nostri eroi questa l'apertura dei fatti del nuovo molise. In una regione dalle grandi emergenze aperte sul fronte del lavoro abbiamo scelto di sostenere il disagio dei disoccupati del Carrefour. Per il governo del presidente Frattura non mancano i problemi da risolvere. Furto con scasso nel mirino la farmacia di Via Calabria e ladri portano via soldi e medicine. Le notizie del giorno. Asrim alla fine Percopo è stato messo alla porta, sostituto da Carmine Ruta e Iorio intanto difende il manager. Comunali Isernia partiti al lavoro per trovare accordi. Il centro-destra mostra grande fibra in l'azione. La molisana pasta miracolosa dai numeri record. L'azienda dei ferro al quarto posto in Italia. Sorpreso a rubare il gasolio dal tir di un collega, arrestato. Il furto è avvenuto in un'area di servizio. A Pescara per dire un grande no alle trivellazioni. La manifestazione in difesa della costa adriatica. Frattura incontra i giovani e parla di europeismo. Il presidente della regione ha partecipato alla proiezione del film Young Europe e ha visitato il liceo Romita. Consiglio regionale, prima di ogni cosa, coerenza e rispetto. Questa lettera è arrivata in redazione. Giovani del Popolo della Libertà, il Molise è presente all'incontro con il CAV. Percopo messo alla porta da ruta, il manager dell'Asrim sostituito, Iorio difende il suo operato. Il senatore del PD scrive per chiarire che non ha nessun rapporto di parentela. Pena fiducia di Casini e Cesa, l'Udc Molisana, incontro con il segretario regionale Teresio Di Pietro. Il miracolo chiamato la Molisana, il pastificio della famiglia Ferro al quarto posto per vendite in Italia. La qualità della pasta tra i segreti del prodotto. L'impegno a educare alla sana alimentazione. Sezione lavoro, zuccherificio, la cassa integrazione per 27 operai. Spostiamoci al tempo. In primis alla pagina dedicata al Molise. Apertura dedicata alla politica. Il rimpasto si fa tirando a sorte. Gli interessati non ci stanno. Sarebbe inaccettabile per la nostra dignità. Campobasso il sindaco non sa decidere quale dei sei assessori deve abbandonare la giunta. Partono i primi ricorsi contro Frattura dopo le elezioni regionali. Isernia Grande Sud sostiene la candidatura di D'Apollonio. Ancora Isernia con il film Young Europe cala il separio sul progetto Icaro. Licenziati dopo dieci anni, precari riassunti dal Tribunale. Si tratta di sette precari dell'Asrem di Termoli. Ancora Asrem arriva Ruta al posto di Percopo. Il direttore generale è stato rimosso dall'incarico a 15 giorni dalla scadenza del contratto. Iorio è un atto ingiusto e privo di fondamenti giuridici. Il piano sanitario sarà il nuovo manager a ridurre le spese e tagliare i posti letto. Passiamo adesso alla stampa nazionale. Napolitano passo il testimone. Il collo esclude un governo tecnico. Tocca ai partiti e il mio successore. La ricetta dei saggi. Una camera. Finanziamento pubblico e IMU da rivedere. Voto per il Quirinale attacco degli hacker al sito di Grillo. No di Berlusconi a un candidato donna. Meglio. D'Alema. Crisi. La rabbia delle imprese. Un minuto di silenzio per denunciare l'emergenza. Boccia. Serve. Un patto con i sindacati. La piccola industria a Torino. Bruciati. 100 miliardi. La Francia dice sì ai matrimoni gay. I francesi in piazza per l'uguaglianza dei diritti civili. Ora le coppie dello stesso sesso potranno anche adottare. Dunque vittoria di Hollande. La norma passa al Senato scontato. Dunque adesso il via libero definitivo. Il tempo. La saggia ricetta per i partiti. Nelle relazioni di lavoro. Riforma elettorale. Camera unica. Napolitano rilancia le larghe intese. Passa la parola al successore. Berlusconi intanto stringe. Governo subito. Oggi la manifestazione a Bari. Apertura per un PD al Colle. Il PD di barca forte più a sinistra. D'Alema vede Bersani. Renzi intanto si lamenta. L'ex mitamedici. Il mio peccato mortale con il magnifico califo. Caro Moravia. Maestro dimenticato. Letto ma non studiato. Amendo la critica e il calcio. E racconta il carling. Regista sul set. Capitolino. Confindustria. Un patto in fabbrica con i sindacati. Chiudono 41 imprese al giorno. La proposta. Anti crisi. Il messaggero. Il colle. Ecco le larghe intese. Napolitano presenta il programma dei saggi per il governo. Ora i partiti devono collaborare. Querinale. Bersani tenta l'accordo al primo voto. Consultazioni grilline. In tilt. Attacco. Hacker. Carroccio nel caos. Bossi minaccia a fondo un'altra lega. Ma sembrerebbe che poi abbia smentito quest'ennesima notizia. Andiamo in Francia. Matrimoni e adozioni gay. Il sì della Francia. Diritti dei gay. La consulta sollecita una legge. Nuove forme in Francia. Via libera. La consulta. Più diritti anche in Italia. Rai. Dopo 600 esuberi. Adesso investiremo in giovani e tecnologie. Parla il dirigente Gobitosi. Bilancio che nel 2014 c'è nessuna trattativa con le stelle di La 7. Paneacqua all'arsenico. Viterbo ha paura. Questo è il caso successo nel Lazio. Libero. Ecco come schivare la nuova stangata dalle polizie alle case all'estero e mezzi legali per salvare i risparmi. I 40 miliardi delle aziende li abbiamo dati a Grecia e Spagna. Manovra in arrivo. La vignetta scelta oggi da Libero, insomma, Ponzio Pelato. Come previsto, pur di non spaccare il PD, Napolitano non ha dato l'incarico né a Renzi né ad altri, perdendo oltre un mese. Lo chiameranno Ponzio Pelato. Volete crocifiggere l'Italia o Barabba? Napolitano se ne lava le mani. La parola passa ai partiti, dice. E poi aggiunge. Toccherà al mio successore decidere. Ma sì, toccherà al successore. Sarà eletto alla fine di aprile. Sì, insiederà a metà maggio. Se la realtà grida nel nulla della politica, la noia è il dissurbo. La vittoria di Libero contro il porno Freccero. L'ordine ci dà ragione. Le grillinarie finiscono a veleni e per nacchie misterioso azzeramento del voto sul web. Passiamo al quotidiano economico. Il sole 24 ore a Torino. La carica delle PM CSC. La crisi peggiore della storia. Il manifatturiero è il motore della crescita. Il convegno Confindustria. Il presidente della piccola industria a boccia dà voce alla protesta delle imprese. L'Italia a pezzi serve un patto tra i produttori. Unione bancaria. C'è l'accordo. Intesa politica dell'Ecofin sulla nuova supervisione unica. Draghi. Il credito è difficile perché resta alto il rischio che le imprese non rimborsino. Napolitano ora la scelta ai partiti. Il mio successore trarrà le conclusioni. Grillo fa ripetere. Le equilinarie. Online. Chaos Lega. Bossi. In un fondo. Un partito. Ecco le due relazioni dei saggi. Panorama. USA in pressing sulla Corea del Nord. Carry vola da Seul a Pechino. E Tokyo. CDP. Confermati Bassanini e Gorno Tempini. Rivendicazione anarchica per la bomba alla stampa. La Corte è costituzionale il click day sul bonus ricerca. Passiamo adesso all'informazione sportiva. Il Corriere dello Sport. La Juve incontra Sanchez. Contatto col procuratore del Cileno. Sul tavolo anche il nuovo contratto di Vidal. Conte no. Assiti e Chelsea. A Napoli pronto il biennale per Mazzarri. Galliani. Montella. Un altro litigio. Oggi Pescara Siena e Atalanta Fiorentina. Amministratore rosso-nero. Certo tornerò a Firenze con una scorta più grande. Il tecnico Viola. Sì, basta che la paghi lui. Ecco Botta. Inter sono come Di Maria. Sognavo da sempre il nero-azzurro. Accuse agli arbitri. Moratti. Deferito. Montolivo show. Milan. È ora di vincere tutto. Capitano contro Viola. Che bello. Qua è facile diventare un leader. Champions. Sorteggio semifinali. C'è Bayern-Barcellona. Borussia per il Real Madrid di Mourinho. Effetto Cina. La Ferrari cresce. Oggi la Pol. Domani alle 9 il GP. La Ferrari di massa è la più veloce nelle prove libere. Bene, con l'informazione sportiva chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Ma prima di salutarci lasciamo spazio all'editoriale realizzato per Molise TV da Federico Mandato. Vediamo. Il tanto atteso regalo dal commissario Filippo Basso è arrivato. È stato nominato Carmine Ruta, 66enne, nuovo direttore generale che va anche a sostituire il sospeso Angelo Percopo. Una decisione sicuramente che farà molto discutere in questa regione da anni bloccata sul sistema sanitario. E soprattutto al momento ancora non abbiamo visto nessuna reazione da parte del presidente della regione Molise, Paolo Frattura, e dall'intera giunta regionale. Sicuramente qualcosa di concreto va fatto. Ci aspettiamo nelle prossime ore una conferenza stampa. Perché per sbloccare i 216 milioni di euro di certo non possiamo vendere la regione Molise ad un altro personaggio esterno. Chi è Carmine Ruta? Carmine Ruta si è diplomato a 34 anni, quindi con 10 anni di fuoricorso. È una persona che è stata espulsa dalla regione Marche e di Varese sicuramente non conosce le problematiche di questa regione. Una regione che va vissuta in lungo e largo per le sue montagne, per le sue colline, per le sue pericolosità. Una zona collinare e montuosa che ha delle difficoltà. Di certo non si può paragonare la sanità così come si paragona a Roma o in altri centri come in Lazio. Ci aspettiamo in questo momento una risposta concreta da parte di chi il numero uno di questa regione ha manifestato dal primo giorno di voler cambiare rotta, di voler cambiare anche i motivi, le scelte e anche i personalismi dell'ex Michele Iorio. E allora ci aspettiamo più concretezza, più decisione, più partecipazione di tanta gente capace molisana. Carmine Ruta è stato nominato per modificare e redigere meglio il piano sanitario, per portarlo a termine. La sua nomina potrebbe durare tre mesi così come un anno e a questo punto noi vogliamo, come dichiarato dal presidente Frattura, che parte subito il bando per trovare una persona concreta, decisa, a voler gestire le sorti di questa sanità molisana. Una sanità che verrà discussa anche nelle carte e nei tribunali. Percopo sicuramente farà ricorso a questa sospensione. Bisogna trovare un'altra volta un motivo valido. E in queste ore Frangioni sta aspettando che il decreto ministeriale arrivi in regione per dare via alle procedure. E allora basta con tante chiacchiere, con tante conferenze stampe per dirci qual è la delega, qual è l'assessore e come cambiare la regione. E' arrivato il momento di cambiarla veramente questa regione. E queste nomine a noi molisani sicuramente non ci fanno piacere, non ci fanno stare tranquilli. Un personaggio che sicuramente farà prevalere la sanità privata, sicuramente un bocconiano. Quindi darà molto spazio nuovamente anche alla fondazione cattolica di risolvere tantissimi problemi legati ai tanti licenziamenti. E allora è arrivato il punto di fare davvero chiarezza, ma di farci sentire subito il nuovo presidente della regione Molise, Paolo Frattura, che ha tanti compiti da dover ottemperare in questi giorni e alle prese con tanti problemi, con tanti lavoratori. Ma lo ricordiamo che la sanità rappresenta l'80% del bilancio regionale e bisogna partire da qui. Bene, con questo è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo al meteo, intanto vi auguro una buona giornata. Vi ricordiamo l'appuntamento con la nostra informazione, come sempre, alle 13.50. Buon fine settimana. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per sabato 13 aprile. La pressione torna a cedere, erosa da un nuovo impulso freddo in discesa sui Balcani. Avvio di giornata soleggiato, ma con nubi in arrivo serale da nord-ovest, specie sul versante adriatico. Ma in un contesto comunque asciutto, salvo isolati temporali pomeridiani, sulla dorsale molisana. Venti deboli variabili tendenti a provenire da nord-ovest in serata, mari poco mossi. Temperature senza variazioni di rilievo. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 9, massima 19 gradi. Isernia minima 11, massima 18 gradi. Termoli minima 13, massima 17 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Il meteo è stato offerto da